La confessione di Gollini, il portiere del Napoli a cuore aperto ai microfoni di Dazon, avete sentito le sue parole? Arrivato nell'ultima sessione di mercato in azzurro dalla Fiorentina nell'ambito dello scambio con Sirigu, Pierluigi Gollini, quasi per uno scherzo del destino, ha fatto l'esordio con la maglia del Napoli proprio contro la sua ex Atalanta. Meret ha dato forfè nel riscaldamento, lui si è fatto trovare più che pronto nel post partita, poi si è confessato ai microfoni di Dazon. Arrivare a Napoli mi ha fatto ritrovare me stesso prima di accogliermi come giocatore, Spalletti l'ha fatto come uomo. A Firenze ho vissuto un periodo difficile, stavo male mentalmente e non avevo voglia di giocare. Avevo perso la passione, non mi divertivo più, le persone che ho trovato alla Fiorentina mi avevano fatto passare tante cose nella mia carriera, non mi era mai successo di sentirmi preso in giro.